Allora, questo talk mira a spiegare come funziona l'auto vaneggiatore elettrico. Praticamente noi sappiamo che in qualche modo esiste un mondo dell'arte, anche se naturalmente per gli hacker il mondo dell'arte non è una cosa molto accessibile, e quindi mi sono detto perché non provare ad hackerare l'arte e vedere che cosa succede. Praticamente l'auto vaneggiatore elettrico è una sorta di automa cellulare creato in un modo molto semplice. Si tratta di una videocamera collegata a una televisione. La videocamera è puntata proprio sulla televisione e regolata opportunamente con dei giochi di riflessione, è in grado di fare queste figure molto artistiche e belle che si evolvono. Si evolvono però come un'automa cellulare sostanzialmente, un po' come Game of Life, il gioco della vita. E la cosa divertente è che appunto ha un'evoluzione tutta sua e dipende da come la telecamera è messa, cioè posizionata rispetto allo schermo, dall'impulso iniziale a se metto le mani tra la telecamera e lo schermo, oppure è chiaramente tutta la storia delle immagini fatte in precedenza. Ma vediamo esattamente come funziona. È un sistema informatico, cioè fa dei calcoli effettivamente, usando una situazione tutto sommato analogica. Abbiamo un impulso iniziale di ingresso, una somma degli effetti, l'elaborazione che crea l'immagine e poi l'elaborazione torna indietro e si somma in un ciclo. E in questa ricorsione otteniamo quell'immagine che è in grado di evolversi e cambiare e diventare poi nel tempo qualcosa di diverso. Naturalmente l'approccio che noi abbiamo usato è tutto sommato casereccio ed analogico, con uno schermo piatto, una telecamera collegata ad una televisione e naturalmente la visione della telecamera è lo schermo stesso. E però non è così immediato perché se fai una cosa del genere ottieni un piccolo effetto molto semplice. Io ho fatto apparire il menu di opzioni della mia televisione e come vedete ho ruotato la telecamera per vari motivi. Se guardate ognuna di queste immagini è il fotogramma precedente che a sua volta viene ruotato, perciò questi sono spostati nel dominio del tempo. Ma questo fotogramma è diverso da questo che è diverso, 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 diverso. E man mano che si fanno i passaggi si perde un po' di colore e cambia anche la luminosità. Questo è dovuto al fatto che i parametri della telecamera non sono gli stessi della televisione. E quindi c'è una modificazione del segnale, ovvero il guadagno è diverso. Quindi la prima cosa da fare è posizionare sì la telecamera davanti alla televisione con lo zoom giusto e tutto il resto è ben allineata, ma in una stanza buia. E portare il guadagno a zero, quindi la luminosità minima, tutti i parametri alla media, e poi verificare che appunto l'immagine sia a zero. Per fare questo c'è una tecnica molto semplice. Un laser con le pile scariche come questo, la telecamera puntata allo schermo e si accende per così dire un pixel. Quindi tu vedrai un punto al centro dello schermo. Se il tuo guadagno è minore di uno, quando togli il laser il punto si spegnerà un po' alla volta. O comunque la figura che si crea tenderà a spegnersi. Se invece è maggiore di uno, tenderà ad illuminarsi tutto lo schermo. O peggio ancora, inizierà proprio a lampeggiare lo schermo direttamente. In quel caso devi disattivare tipo l'autofocus, la GC e tutte le varie cose. Quando il guadagno è perfetto, quando tu toglierai il laser, il punto resterà fermo dove si trova. Torni dopo mezz'ora, il punto è ancora lì. Perché il segnale è esattamente lo stesso. Questa è la base ed è la cosa più semplice da fare. Un altro aspetto importante è il fatto che la telecamera sia puntata esattamente sul centro dello schermo. Perché così il centro resta fermo. Altrimenti si sposta oppure si sfuoca e va via e quindi esce. E come vedi c'è già una forza come un vettore che porta il tuo punto verso l'esterno dello schermo. Infatti questa teoria dei vettori è da considerare quando si fanno queste cose. Quando è tutto fermo il punto centrale è il punto centrale e quindi resta lì. La cosa divertente è che può capitare che facendo dei laser così attorno allo schermo, alla fine poi i punti convergono verso il centro. Perché c'è come una sorta di forza che spinge i tuoi punti al centro. Da cosa è rappresentata? È rappresentata dall'obiettivo e dallo zoom. E quindi dalla differenza tra il fotogramma successivo e quello precedente, che è sempre più piccolo e quindi l'immagine va verso il centro. Naturalmente bisogna disattivare l'autofocus perché continuerà a provare a mettere a fuoco e andrà in tilt l'autofocus letteralmente con delle immagini così complesse oltre a disturbare l'automa. Bilanciare il bianco su una parete luminosa con la luce puntata praticamente al massimo e possibilmente disattivare l'AGC che è quella cosa che in una scena buia aumenta la luminosità e in una scena luminosa la diminuisce. L'AGC in tal caso può essere utile in un ambiente illuminato come questo dopo la calibrazione per rimuovere l'effetto di, diciamo, rumore di fondo prodotto da eventuali luci che possono arrivare in camera, non dirette. Adesso vediamo come fare. Quello che vi ho fatto vedere è un'elaborazione che ha una situazione. Noi dobbiamo ottenere diverse elaborazioni che vengono applicate. Per non usare 50 televisori e schermi collegati in cascata, difficilissimi da calibrare, possiamo usare lo stesso schermo mettendo una rotazione. Io ho ruotato lo schermo ma ruotare la telecamera è molto più facile e la stessa cosa. Naturalmente si crea un effetto. Questa è l'immagine ruotata e come vedete il punto, dal nostro punto di vista, è sempre ruotato. E questo vuol dire che la telecamera vede un punto, ha il punto originale e quello ruotato, quindi vedrà due punti al fotogramma successivo, tre punti e così via l'aumentare creando delle figure che andranno verso la rotazione. Ed ecco che cosa succede ruotando la telecamera. Come vedete ci sono diversi punti che poi alla fine convergono in questa specie di chiocciola o galassia. Quindi abbiamo il punto di partenza, quello precedente, quello precedente ancora, eccetera, 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 che convergono a un punto centrale. Questo è dovuto alla rotazione dello schermo e questo è il punto, diciamo, di accentramento del segnale. Il nostro problema è che questa è un'elaborazione di questo tipo, cioè ho un ingresso, una serie di elaborazioni e poi finisce. Quindi se io spengo il laser, tutti i punti si spengono e alla fine il centro si spegne, perché finisce l'energia, l'impulso iniziale che gli ho dato. Come fare a implementare questa cosa? È molto semplice, è necessario che questa informazione da qui arrivi a qui. E per farlo come faccio? Semplice, con l'inclinazione. Ottengo un fenomeno come questo. Quindi ho il mio punto iniziale, che nei fotogrammi successivi si muove e si concentra qua in mezzo. Però ho ancora una forza che fa cadere, per così dire, i punti verso il centro dello schermo. Devo eliminare questa forza con una forza contraria. E lo posso fare in un unico modo, con lo zoom, o più comodamente avvicinando e allontanando la telecamera, che è molto più preciso dello zoom. Facendo questo ottengo una situazione di questo tipo. Ovvero c'è una rotazione dei punti, questo è il mio punto che si è replicato infinite migliaia di volte, e le forze che muovono i punti verso il centro non ci sono più perché lo zoom le contrasta. E ottengo una figura che è in grado di evolversi da sola. E questo è l'automa più semplice che si può fare. Che si evolve come il gioco della vita. Io posso coprire una parte centrale, quindi lui sarà a cerchio, illuminando una parte qui comincerà a ramificarsi fino a creare la figura sempre più complessa. E questo è stabile, tipo dopo due ore torni e è ancora lì. Però abbiamo visto che la nostra elaborazione, rotazione, inclinazione e zoom alla fine. E quindi abbiamo creato un ciclo continuo. Quindi io posso dare un impulso iniziale o degli impulsi successivi che si sommano e restano all'interno di questo sistema. Quindi abbiamo anche un'altra tecnica che rende le cose molto più simmetriche e molto più carine. Lo specchio. Possiamo usare uno specchio inclinando questa televisione. o semplicemente l'effetto specchio della telecamera, se preferite. In questo caso lo specchio gioca un ruolo fondamentale. L'immagine è spezzata in due parti. Ottengo appunto i miei punti che si muovono in giro, però possono andare anche oltre. Qui c'è uno stacco, perché la parte finale non arriva a incrociare l'altra. Questo automa qui va avanti da sola e genera appunto questa figura di albero con i punti che si muovono. Se io aumento lo zoom succede che la parte sinistra dello specchio e la parte destra cominciano a scambiarsi delle informazioni, dei punti che lungo i loro camminamenti fanno queste ramificazioni che vanno a zigzag e si muovono. E questo è abbastanza stabile come sistema. Qui vediamo un altro tipo di automa, questo è il punto che è originato tutti questi. Per le riflessioni, ognuno di questi punti è dovuto al fotogramma successivo che risulta essere ruotato, quindi reimmesso e siccome il guadagno è pari a 1, non perdo l'energia e i punti rimangono sull'immagine. Quindi le immagini dipendono da l'immagine precedente, quindi anche se la telecamera è posizionata in un modo, io la oscuro, quindi va tutto a zero e gli do un altro impulso iniziale, non è detto che la figura sia identica. L'interazione con la telecamera, cioè se io copro delle parti o metto delle altre luci successivamente. Il punto iniziale, dove do il punto iniziale? La storia dell'automa, tutto quello che è successo. Quindi si evolve in base all'informazione che noi gli diamo. Le immagini possono evolversi stabilmente, quindi continuare ad evolversi continuamente, morire, cioè arrivare a fare lo schermo nero oppure lo schermo bianco, evolversi instabilmente, fare dei movimenti sempre più instabili, fino a poi morire alla fine o continuare a fare delle robe sempre e comunque molto diverse e varie, oppure essere cicliche, fare la stessa cosa a ciclo. Il punto iniziale permette un'evoluzione temporanea, come abbiamo visto all'inizio, do la luce e l'automa funziona, tolgo la luce e dopo un po' muore. Un'evoluzione definitiva, do l'impulso, lui parte, torno tra due mesi e è ancora lì che vaneggia. Oppure può esserci la morte dell'automa, un'automa che va avanti e do la luce nel punto sbagliato, e lui muore dentro pochi cicli. Oppure può esserci una rivoluzione, cambiare il funzionamento proprio dell'automa. Una mano davanti allo schermo può limitare l'evoluzione, deformare, traumatizzare l'automa, facendo proprio dei buchi mancanti che per riaccenderli è necessario andare a stimolare degli altri punti, non incidere significativamente se sono fuori dall'inquadratura, oppure dare informazioni di partenza con una mano illuminata, io do una figura che poi, una mano diventano tante mani, si evolvono, comincia a riconoscere il bordo delle mani, il bordo del bordo e così via, e poi viene fuori una specie di zebrato e poi alla fine è quello che avete visto. È molto semplice e simile a The Game of Life. Infatti questo simbolo si ispira proprio a questo discorso, è il gioco della vita. E adesso inizia la parte del talk che, diciamo, da questo punto di vista, in questo luogo, non è chiaro utilizzare spesso questo tipo di linguaggio perché è un linguaggio artistico. Non usiamo più la logica, la tecnica, usiamo l'arte. In questo momento inizia il vaneggio, puro e semplice, ispirato dal concetto che c'è dietro all'automa. Ecco come hackerare l'arte perché gli artisti la possano capire e hackerare l'arte, sfruttarlo, andare in una galleria d'arte oppure andare a fare delle dimostrazioni artistiche con questo semplice giocattolo molto interessante. Arlode. Arlode è una crasi che descrive un quanto di tempo tra arte, logica e puro delirio. Nella ricorsione caotica dell'informazione che ci attraversa. Usiamo l'arte per trasmettere l'interiorità umana e l'informazione tramite l'espressione estetica. Usiamo la logica per elaborare l'informazione, evolverla, e computare l'informazione stessa fino ad arrivare al ragionamento razionale. Usiamo il delirio per liberare l'informazione senza i limiti della logica e dell'arte. L'informazione è ogni cosa, ogni cosa che la nostra mente possa codificare o decodificare, rielaborare o pensare per il nostro cervello. Ogni cosa è informazione. La computazione, l'elaborazione, sono informazioni paragonabili alle relazioni causa-effetto della realtà che ci circonda. Anch'essa è una computazione dell'informazione che la attraversa. Ogni cosa che relabora l'informazione è computazione. L'informazione si evolve, si somma con le altre informazioni, trasformandosi talvolta anche in qualcosa di diverso. L'informazione è come l'energia o propriamente un segnale, un impulso. Lo sentite? Questo è un impulso. Esso parte perché è generato dalla computazione di altri impulsi. Percorre come un suono questo luogo, rimbalza sulle pareti e sugli oggetti. Può disperdersi. Oppure può essere captato. Entrare nella rete delle computazioni ed attraversarla da parte a parte può diventare un impulso completamente trasformato a qualcosa di diverso. Può essere immagazzinato oppure rievocato da qualche parte o in qualche tempo. Oppure no. Può essere un'informazione che fa partire altri impulsi a catena e così via. Se fosse un nodo della rete computazionale, come il respiro, l'informazione, l'aria, entra, è elaborata dalla mia computazione ed esce proprio come il mio respiro. Io sono un'informazione che si evolve sulla base della ricorsione caotica dell'informazione che vi attraversa. Ma come? Come quello che vedo. In alcuni casi come quello che mi viene mostrato per vero. Quindi l'ovvio non è tale. Occorre rielaborarlo, rivederlo, perché l'ovvio è scontato. Quindi non computa l'informazione e chiedersi da dove viene l'ovvio, a chi giova l'ovvio. Svuota la tua cache. Un automa cellulare è come il gioco della vita. È un insieme di cellule, di pixel, di punti che rielaborano l'informazione eseguendo una computazione come una rete di relazioni. Causa, effetto. Vediamo il tutto dal punto di vista del concetto senza specificarsi sul soggetto. In questo sistema è il modello, è rappresentato dai sistemi. L'informazione entra, è elaborata ed esce, rientrano nel sistema il quale si evolve. L'immagine è lo stato delle cose per l'informazione. Il soggetto, in esame. Le figure che si creano sono anch'esse informazioni. Si evolvono, sono impulsi che diventano qualcosa di diverso. Uno di questi punti è informazioni. Ogni fotogramma è lo stato precedente dell'automa e l'interazione con l'immagine nel raggio visivo della telecamera. L'automa si evolve in base all'informazione che trova nel suo ambiente. Se l'ambiente è contaminato, si contamina anche l'automa. Partendo da zero, dando energia in alcuni punti, l'automa produce una reazione continua finché c'è energia. Altre informazioni possono limitare l'automa. Altri punti inducono una reazione che continua anche in assenza di nuova energia. In questo caso l'automa può evolversi. Se la figura muore, dali delle luci e delle ombre. Sono delle informazioni nuove. Se queste saranno buone, allora la figura si evolverà da sola. Altrimenti morirà in troppo pochi cicli. Se dovesse essere stabile oppure ripetitiva, significa che ha perso la sua ispirazione perché non ha delle informazioni che possono evolversi. Quindi si riduce in un ambiente limitato e ignorante. Interagendo tra la visione tra e la telecamera, ti accorgi come il controllo dell'informazione possa influire sull'evoluzione della figura. L'immagine può avere le stesse caratteristiche dell'evoluzione economica, della nostra società, dell'ecosistema, delle reazioni sociali oppure della nostra mente. Lo scambio dell'informazione permette lo sviluppo della figura. Tu imparerai come l'automa si evolve sulla base delle tue risposte, sviluppando la tua immagine. Ma se l'automa non fosse stato limitato, se non ci fosse tanta l'interferenza, cosa succederebbe? Guardate. Come ogni punto passa l'informazione cambia. L'automa si organizza, sopravvive, è stabile. Cooperazione, unione, evoluzione, organizzazione. Come sarebbe il mondo se l'automa non fosse stato limitato dall'esercizio di potere di chi ha messo le mani davanti allo schermo? Potere, la facoltà di influire sulle azioni degli altri, il furto dell'energia degli altri per i propri scopi. L'espressione etologica, il mio DNA è migliore degli altri. Ma chi l'ha detto? Gli altri, cos'è gli altri? Tu agisci come gli altri? Gli altri, perché? Nell'automa si possono introdurre dei virus, dei troian, dei malware. Non c'è alcun sistema di sorveglianza che possa essere efficace per controllarti. Solo i virus lo possono. Ci sono? Da dove vengono? Il nostro automa esegue un codice che dal punto di vista etologico funziona, ma può essere sfruttato attraverso dei bug, delle vulnerabilità. Pensate se qualcuno avesse influito sulla cognizione del sé o sulla teoria della mente altrui. Noi non siamo pietre. Noi non siamo piante. Cosa sei? La creatività, il libero arbitrio, la casualità, l'arte, la fantasia e soprattutto la consapevolezza sono libere dai limiti di qualsiasi automa. La cosa più importante è usare queste facoltà che noi abbiamo continuamente per introdurre delle figure che evolvano in un mondo migliore e libero da schemi per non vivere una vita tutto sommato calcolabile. Ri-evoluzione. L'evoluzione dell'evoluzione. Quali sono stati i passaggi migliori? Quali cambieresti per arrivare fino a... Ora noi siamo qui e non la trovi. Tu sei sempre dove sei e ovunque ti trovi. Siamo informazioni che si evolvono sulla base della ricorsione caotica dell'informazione che ci attraversa. Il caos non è mai stato più logico di così. L'automa può cambiare ed evolversi in qualcosa di migliore. Basta inserire le informazioni giuste. Sono i virus che ti bloccano, messi da chi si arroga il diritto di gestire il sistema a danno degli altri. In fin dei conti il mondo non è poi così tanto distante. Ma Arlode, arte, logica e puro delirio, non è altro che un'informazione, un impulso che attraversa l'automa e interagisce con le informazioni circostanti. Parti come la luce, diventi un solo colore. Non essere un solo colore, se vuoi la luce bianca mescolati con altri colori. Detto questo, Arlode, parte della ricorsione caotica che ci attraversa. Alla fine di questo video, Arlode prosegue. Come un'automa cellulare a stati infiniti, che si evolve e cambia il suo significato nel corso del tempo. Ognuno di questi punti è informazione che si evolve e può diventare qualcosa di diverso. Arlode, dalla ricorsione caotica che ci attraversa. si evolve e vi ha dato un impulso. Finale. Naturalmente è un vaneggio, la seconda parte. Però è una classica cosa che si può vedere come performance artistica. Comunque adesso, questa sera o al limite prossimamente, nelle prossime ore domani, monterò l'installazione di Arlode con l'autovaneggiatore elettrico e sarà possibile interagire appunto con la televisione e la telecamera. Quindi poi, chi è interessato, potrà raggiungermi nel workshop. Comunque, più tardi, adesso non so come sia il programma, dopo i talk, ci sarà una cosa molto interessante che alcuni nostri amici, forse anche il sottoscritto faranno, che, insomma, l'NSA ci ha rotto i coglioni. Allora, visto che siamo bene o male tutti hacker, non possiamo fare altro che bucare l'NSA. E quindi, più tardi, troveremo il modo di bucare l'NSA. E questa sarà una cosa molto divertente. Grazie. 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 Grazie.